Ciao a tutti, sono Moreno del Signore, vocal coach e direttore del Tempio della Voce. Nel nostro appuntamento numero 44 odierno parleremo di affaticamento vocale e diremo no grazie. Uno dei temi delicati della vocalità riguarda la resistenza ad un utilizzo frequente. Nei dieci anni di insegnamento che ho tenuto presso il MAS di Milano ho lavorato con moltissimi allievi, quotidianamente sottoposti ad un uso importante della voce, nell'arco di tre anni e nell'ordine delle quattro, sei ore quotidiane tra tecnica vocale, recitazione, interpretazione, dizione, coro musical e gospel, ed era facile notare come anche i più dotati in natura avessero problemi di resistenza nel tempo. Gli unici che passavano indenni queste dure prove erano coloro che avevano strutturato con grande chiarezza alcuni fondamenti. Stessa cosa valse per i molti allievi e colleghi sottoposti ad intensa attività live nell'arco di pochi giorni. Ma quali sono dunque i sistemi di prevenzione e gestione della propria voce? Punto primo, corporeità della voce. Tenendo conto del fatto che la voce non è un'entità materica, se apriamo il corpo umano non troveremo la voce, ma questo in fondo vale anche per i sentimenti, per i pensieri, non li troviamo, non li vediamo, ma ci sono. Dovremmo tenere conto nel nostro corpo di tutta una serie di caratteristiche che supportano una corretta emissione vocale e quindi evitano la fatica, pertanto la postura del nostro corpo che deve essere il più possibile poggiata sulla muscolatura e non sullo scheletro osseo. Il nostro corpo dovrà essere elastico e sarà importante aver sviluppato la muscolatura profonda. Perché? Perché è quella che tiene appunto lo scheletro in una condizione di utilizzo perpendicolare al terreno. Già abbiamo visto in altre lezioni come abbandonandoci a curve di cifosi, lordosi e abbiamo molte difficoltà respiratorie e soprattutto andiamo ad imprimere una costrizione involontaria al nostro cavo orale. Al punto secondo dobbiamo occuparci di un'igiene vocale e faremo delle considerazioni. Il nostro corpo è da utilizzare in un certo senso come quello di uno sportivo. Quindi dovremmo stare attenti perché per esempio il fumo inaridisce con il calore le mucose. Dovremmo stare attenti alla gestione del consumo di alco che, d'accordo, in parte disinibisce e magari può essere simpatico e piacevole pensare prima di una performance di rilassarsi un po', va benissimo, ma d'altra parte altera comunque la funzionalità delle mucose. È tutto sempre relativo a quello che dobbiamo fare della nostra voce. Dovremmo tenere in considerazione la qualità del riposo fisico e vocale. È una quantità soggettiva certo, ma non può e non deve essere inferiore alle 7-8 ore, perché durante il riposo il corpo si rigenera e adotta naturalmente una respirazione di tipo diaframmatico, quindi è un qualcosa che agisce nel sistema parasimpatico e che sostanzialmente al di là di eventuali momenti d'ansia o di affaticamento personale ci riporta ad un'ideale condizione migliore possibile. Il punto quarto sarà la cura dell'emissione parlata. Questo è molto delicato. Bisogna correggere il focus con presenza costante del sostegno e della dimensionalità della voce. Molte persone si stancano durante il parlato molto più che nella forma cantata, dove adottano con più attenzione e magari anche istintivamente un sistema tecnico. Voglio portare alcuni esempi avuti in questi anni. Persone che devono per la loro professione parlare molto, parlare molto in pubblico e forse anche tanti artisti che, sottoposti a interviste piuttosto che passaggi radiofonici, passaggi televisivi, dove devono comunque parlare, finiscono col trovarsi in conduzione di affaticamento, precontato delle corde vocali ed eventualmente noduli. Quindi una grande attenzione anche per noi che ci esibiamo e soprattutto nel momento successivo al live, nel quale abbiamo il nostro corpo completamente proiettato in una vocalità di tipo cantato e ci troviamo poi magari a parlare in un luogo in cui c'è parecchio rumore, ci sono dei disturbi e quindi finiamo per utilizzare una voce che ha la gola molto larga in una maniera che le costerà naturalmente fatica. Quali sono i suggerimenti in questo caso? Quelli innanzitutto di graduare la propria vocalità in ragione degli uditori che sono presenti. Pertanto se mi rivolgo a voi e sto parlando con una persona sola o sto parlando come in questo momento con un microfono che mi ascolta e mi accoglie, io posso permettermi di utilizzare questo timbro che è molto caldo, che è molto arioso se vogliamo, che però crea un contesto di un certo tipo, è avvolgente. Mentre se parlo a un'utenza più numerosa sarà necessario che io sposti la mia voce in un'area più udibile, che mi costa meno fatica, magari è meno bella, ma devo tenere conto di questo. Procediamo. Al quinto punto, l'alimentazione. Dovremmo avere una grande cura di questo? Beh, innanzitutto per stare bene, ma per disporre dell'energia necessaria e per evitare tutti quei cibi che possono provocare uno dei disturbi più frequenti per i cantanti che è il reflusso gastroesofageo, ossia il problema per il quale poi lo stomaco, a causa di una digestione difficoltosa, specie quando ci mettiamo distesi, fa sì che i succhi gastrici risalgano, andando a creare uno stato di infiammazione per quanto riguarda le aretinoidi, le corde vocali stesse. È una cosa abbastanza comune, quindi avere grande cura nell'utilizzo di alimenti di tipo basico e di evitare invece gli alimenti di tipo acido, direi nella quotidianità gestendo con buon equilibrio questo, magari in un piano alimentare personale o personalizzato, insomma che possa contenere tutto, la nostra dieta mediterranea è meravigliosa, ma dobbiamo cercare di aver cura dei momenti di performance o di preparazione della stessa, quindi i cibi basici sono preferibili rispetto ai cibi acidi. Al sesto punto la respirazione, nelle varie modalità. Mi piace qui ricordare appunto come semplicemente gestendo uno spazio con la lingua, cioè appoggiandoci all'arcata superiore, andremo ad ispirare nella parte diaframmatica bassa o ventrale e intercostale, mentre respirando con la lingua appoggiata all'arcata inferiore andiamo a sollecitare la respirazione intercostale principalmente e la percezione della stessa sul palato molle. Da utilizzarsi quindi la respirazione nelle performance, ma anche nella quotidianità, fino a farla diventare una sana abitudine di vita, perché abbiamo un ruolo del respiro che è fondamentale, noi lo dimentichiamo, ma è la prima cosa che facciamo venendo al mondo ed è l'ultima cosa che faremo prima di andare in qualche altro luogo da visitare. Il respiro è la nostra fonte primaria di energia, prima del cibo, prima delle altre cose. Respirare significa essere presenti nell'istante a quello che stiamo facendo. Al settimo posto abbiamo la conoscenza tecnica approfondita e utilizzo consapevole dei meccanismi vocali 0, 1, 2, 3, che ricordo essere il vocal fry, la voce piena, il falsetto nelle tre modalità e il registro di fischio, perché utilizzare correttamente, specie dietro sollecitazione, questi meccanismi ci permette di non entrare in fatica. Al punto numero 8 avremo la gestione delle consonanze, petto e testa, quindi privilegiando la consonanza di testa rispetto al petto e compensando riguardo la richiesta di suoni più profondi. Tenere la voce in testa significa tendenzialmente non avvertire peso nell'area del vestibolo laringeo e quindi non avere fatica. Al punto numero 9 la gestione delle tessiture nel meccanismo 1, cantare morbidi sul fiato oppure addirittura nel meccanismo 2, perché se la singola performance può essere vista come un momento da fissare, sono in studio di registrazione, sto facendo la miglior versione possibile di un pezzo e dico voglio osare quelle note lì in voce piena, me le posso permettere sì. Non è sempre detto che nella continuità dei live per esempio sia possibile approcciare allo stesso modo senza entrare in fatica. Molti sono i grandi artisti che poi dal vivo sono costretti, almeno grandi come fama, sono costretti quando arriva il ritornello del brano a rivolgere il microfono al pubblico nel simpatico gesto di farli cantare che spesso però nasconde l'impossibilità di reggere loro stessi quelle tessiture. Al decimo posto di questo nostro elenco terremo in considerazione qualcosa di profondamente delicato, ovvero la gestione degli stati emotivi. L'ansia e la paura sono due tra i principali responsabili dell'affaticamento vocale, perché inibiscono una corretta respirazione e alterano la corretta funzionalità corporea. Come rispondere ad esse? È del tutto naturale attraversare stati emotivi che saranno per loro stessa natura implicati nella nostra espressione umana prima e vocale poi. Ciò che può aiutarci è nuovamente la respirazione. Non a caso punto fondamentale in ogni pratica di consapevolezza o ricerca, dalle arti marziali alla meditazione, dallo yoga al pilates, attraverso una respirazione lenta e profonda è possibile diminuire gli effetti chimici degli stati emotivi. È naturale che la gioia e un diffuso stato di equilibrio e benessere potranno invece supportare al meglio la nostra voce e lo scorrere della nostra stessa vita. Vi invito quindi a visitare il sito www.iltempiodellavoce.com e se vorrete interagire con me o studiare potete scrivermi all'email info-morenodelsignore.com. Vi aspetto per la prossima puntata. Grazie a tutti.